Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e a questo nuovo appuntamento del montaggio dell'uscita numero 93 di questa splendida figura di Iron Man Marvel 1 a 3, come ho già detto, altezza 60 cm, edizione di Agostini. In questo video mi permetto di darvi dei consigli che, come dico sempre, non sono assolutamente obbligatori. Comunque, andiamo avanti. Una lima, perché vi potrà essere utile. Un cacciavite a croce punta fine, un cacciavite a croce punta media, un pennarello rosso che si avvicini ovviamente al colore dell'armatura, una chiave da 4, se non l'avete va bene anche una pinza, una leva in legno e questi sono gli utensili che vi consiglio di avere al di là ovviamente di questi che sono obbligatori. Poi ci servono i due arti superiori completi. non fate caso ai miei perché manca la copertura dorata e la placca qui dell'avambraccio, su tutte e due ovviamente, come vi ho sempre detto ragazzi, fate tutto alla fine, vedete, mancano anche i perni qui che sono questi perché ci sarà sicuramente alla fine del montaggio da registrare tutte le leve e come farete se avete messo i pezzi rischiate di romperli quindi andandoli ovviamente a togliere. Poi il reattore arc, il busto completo, poi lo inquadreremo meglio, abbiate pazienza, l'importante che io mi faccia comprendere, ripeto, poi inquadreremo meglio, questo, aspettate che alzo un po' la camera, questo che è la parte del bacino, ne avremo tre sostituibili in funzione di quelle che saranno le figure che vogliamo presentare della nostra armatura, vedete queste sono le coperture degli avambracci che io non metterò se non alla fine, queste del muscolo, il casco, c'è veramente parecchio da montare, ve lo dico subito, poi l'uscita numero 86 e l'uscita numero 87. Adesso andiamo a fare un po' d'ordine e ci vediamo dopo. Come vi ho detto questo è tutto quello che andremo ad assemblare nell'arco di questa uscita numero 93. Adesso prima di procedere mi sono scritto qualche appunto e mi permetto di darvelo, poi ovviamente fate quello che ritenete più giusto per la vostra armatura, come vi dico sempre. La prima cosa che vi consiglio è accertiamoci che tutto si agganci correttamente, poi non potremo più intervenire con la certezza di non danneggiare le coperture delle viti, poi presentare gli elementi da assemblare sulle loro sedi, se necessario consumare con una lima le sbavature che potrebbero vedersi e all'occorrenza ritoccarle, ma senza andare sulla parte anteriore, cioè quella vista, ritoccarle con un pennarello indelebile che si avvicini ovviamente al colore. Poi crearsi i vari filetti utilizzando un lubrificante per i fori in metallo, mentre per i fori in plastica avvitare a secco senza assolutamente utilizzare lubrificanti. Avremo poi da crearci il filetto che io, sapete, ho già fatto, qui e qui e qui uno, due, tre e quattro che ci vanno le viti EM, qui le IM, ma lo vedremo dopo. Sarà un po' lungo questo video, ma voi lo sapete che tanto Michele non è che li fa brevi, anche perché spiegarvi tutto non è così facile come montare e basta. È giusto sempre sottolinearlo, perché poi mi arrivano dei commenti a volte non troppo carini. Io vi ringrazio che mi guardate, delle iscrizioni, mi raccomando non vi dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ricordatevi che c'è una playlist, potrete trovare altri modelli, se il canale vivrà grazie solo e assolutamente a voi ne faremo di altri ed è tutto sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque davvero lo desideri di poter comprendere anche quello che io dico. Andiamo avanti. Poi, una volta creati i filetti, ricordatevi sempre di utilizzare un pezzo di carta per pulire il lubrificante così da evitare che possa con il tempo idratare le asole, in questo caso queste. Le faccio vedere subito. Ce la posso fare? Dove è andato? Un attimo solo. Eccole qui. Tendevo queste che poi sono in questa uscita della 93. Allora, poi stavo guardando cosa dirvi ancora, un attimo che leggo perché, ripeto, mi sono preso un po' di appunti perché nella sua semplicità non è poi così semplice il montaggio, bisogna fare molta attenzione. questo ve lo dirò dopo. Ok, se uno dei quattro perni, eccolo qui, o anche di questi, vi ballasse nel foro, può succedere, non è un problema. Con una pinzetta piccola a becchi, lo premete, lo ovalizzate leggermente senza esagerare e vedrete che non vi ballerà più. Andiamo avanti. Allora, sì, adesso possiamo andare a procedere al montaggio di questa nuova uscita. Ce n'è qua, ce n'è veramente parecchie, meno male. Una sola cosa prima di procedere al montaggio. Qui nelle istruzioni, loro ci consigliano, ci fanno vedere di montare per ultimo il casco dopo aver fatto tutto quello che c'è scritto. Io non ve lo consiglio perché poi è tutto molto più fragile da maneggiare. Fatelo subito, come farò adesso anche io, poi decidete voi. Ricordatevi sempre di alzare le alette posteriori per evitare di danneggiare queste che sono in plastica, così potrete lavorare su questo lato qui, in sicurezza. Ok? Non distraetevi mai. Allora, vediamo un po', alziamo ancora l'immagine. Abbiate pazienza per quello che saranno le inquadrature. L'importante è che io riesca a farvi comprendere ciò che voglio dirvi. Il casco. Il casco ha il bisogno, guardate voi, lo inserite, come io ho già fatto, adesso vi farò vedere, lo inserite. Se vedete che è molle all'interno, andate a posizionare un OR, eccolo qui, da 3x1,5 mm, questo sopra. Eccolo qui, ve lo faccio vedere. Ma solo al bisogno, solo se vedete che il casco vi cade giù. Basterà inserirlo all'interno. Eccolo qui. Lo posizionate bene al centro. Vedete? Adesso io lo tolgo perché non mi è servito, a me non balla, ma potrebbe succedere che a qualcuno non sia così saldo. andiamo a inserire quindi il nostro casco. Prima di farlo, le diamo la parte anteriore. Ecco qui. Pressiamo leggermente e andiamo destra e sinistra, destra e sinistra, così finché sentiamo l'inserimento fino alla fine. Ecco qua. No. Ecco qua. Niente. Vedete quanto poi diventerebbe più complicato con tutto il torace in plastica davanti. Ok. Ecco. Adesso guardate questo casco. vi sembra che cade? Guardate. Adesso BOOM! Guardate qua. Dove lo metto? Lui sta. Mettiamo la parte anteriore. Beh. Ma cosa vi devo dire? Guardate. Ma quanto sei bello! Ok. Andiamo avanti. Mettiamolo così. Sempre piano. Torniamo quindi indietro. Ci dice di prendere questo. Eccolo qui. Andiamo ad inserire i due perni all'interno. I due perni, chiedo scusa, le coperture. una e due. Così. Ola. Accertatevi che siano entrate correttamente dentro i fori dedicati prima di schiacciare. Poi premete solo dove avete il perno, cioè qua e qua e lo fate andare giù insieme. ecco. Perfetto. Uno. E due. Spero di riuscirci con un video perché dopo i 40 minuti mi si blocca per la memoria per la memoria che è limitata nel telefonino e magari dovrò fare una seconda parte e vi chiedo scusa se dovesse accadere vi chiedo scusa. Con calma eh. Ecco qua. Non premete mai solo una parte perché lo rompete. Guardate che meraviglia. E siamo arrivati qui. A questo punto ci dice di girare il modello così e andare a metterci questa. Sì. E andare a metterci uno e due pezzi. Eccoli qui. Allora. Così. Perfetto. Qui ci vanno quattro viti EM. Uno, due, tre e quattro. Io mi sono già filettato le quattro viti con il grasso. Basta bagnarne solo una e con la stessa andarvi a fare tutti e quattro i filetti senza bagnarla più. Ne prendiamo quattro. Ne avvito una e poi ci vediamo dopo. Prendete il grasso, bagnate la vita all'interno. Filettate. Una, due, tre, quattro. Poi con un pezzo di carta pulite bene i residui di grasso. Toglieteli tutti. Per quello che vi ho già spiegato prima. Perfetto. Andiamo a mettere questo così. mettiamo una. due. E ci vediamo dopo quando terminiamo questo assemblaggio. Cosa devo dirvi ragazzi? Guardate che splendida, che splendida armatura che sta venendo fuori. Andiamo adesso ad installare il gruppo delle due piastre laterali. Quindi mettiamo questo così. e andiamo ad inserire i due perni nelle loro sedi. Fate attenzione a non romperli. Perfetto. Non schiacciate subito troppo giù perché vi potrebbe andare più basso e se non riuscite a toglierlo poi vi rimane il gradino tra una parte e l'altra. Andate con calma. Stessa cosa facciamo da quest'altra parte e terminiamo anche questa prima fase di questo montaggio dell'uscita numero 93. perfetto. Che bello. Ok. Giriamo pagina. Adesso ci dice di assembrare le due braccia. Quindi leviamo un momento questo. Perché tanto ci servono quattro viti SP. Eccole qui. Lo leviamo un attimo così non roviniamo il fascicolo con questo pezzo veramente pesante. eccoci qua. Vi ricordate all'inizio vi ho detto di unirvi di una chiave numero 4 perché le parti smussate di questo elemento e di quest'altro devono essere rivolte verso la schiena. Ok. La curva in giù verso la schiena. Quindi vedete con questa chiave lo potete fare tranquillamente senza danneggiare nulla. Prima di farlo avvitatevi bene le tre viti all'interno qui. Stringetele fino in fondo. Stessa cosa dall'altra parte. Così sarete ancora più sicuri di avere più resistenza. Andiamo adesso a prendere il nostro braccio. Io inizierò con il sinistro ma qualsiasi ovviamente va bene. Andiamo a togliere questo. Questo l'ho già tolto così evitiamo di danneggiarli. Ricordatevi che questo va stretto molto forte questo perché poi per gravità vi cade e vi lamentate che vi rimane lo spazio tra la spalla e l'attaccatura della spalla. Ecco perché vi ho detto non mettete i tappi, le coperture. Fatelo alla fine perché comprenderemo cosa è più corretto fare. All'inizio non è così semplice. Quindi io ho stretto molto forte queste infatti le dovrò lavorare mentre questa è libera di andare su e tornare con la molla ovviamente. andiamo a prendere due viti sp. Ne prendiamo quattro perché due da una parte e due dall'altra. Ecco qua giriamo la nostra armatura. Vedete? Così la possiamo lavorare bene senza pericoli danneggiarla. A me viene veramente difficile inquadrare tutto non uscire dall'inquadratura. Ok guardiamo subito inseriamo. Questo ve l'ho già spiegato perché l'ho messo. Andate a vedere i miei video. Così li guardate fino alla fine senza farli andare avanti. Inseriamo. Teniamo bene in linea il braccio. Non lasciatelo mai. Poi fate questo lavoro qui. Allargate la molla da sotto e guardate che i fori combacino sono. Altrimenti è inutile mettere la vite. Non riesco a inquadrarveli. Vediamo. Aspettate eh. Non riesco. Comunque questi fori ovviamente devono combacciare con quelli sotto. Andiamo a metterci la nostra prima vite SP. Ah è ovvio eh. Io mi sono già creato il filetto anche nel braccio con la vite SP. Diversamente troverete molto difficile perché tenderà ad allargarsi la plastica e rischiate di spezzarla. Fate attenzione. Io le cose ve le dico poi fate voi. Prima da una parte poi dall'altra. Non stringete tutto da un lato. Prima di farlo guardate questo spazio in mezzo che avete. Non si deve assolutamente allargare. Se no vuol dire altrimenti che non avete preso bene il filetto. Deve stringersi man mano che avvitate. Se si allarga siete fuori dal filetto. Vedete a me si sta stringendo. Non so se si vede. attenzione che è importantissimo questo passo. Importantissimo. Controllate qua sotto. Deve essere completamente chiusa la parte che prima era aperta per farla inserire dentro. Mi raccomando. Controlliamo anche di qua. Controllate che tutto funzioni. Guardate. Guardate il mio braccio. Lo vedete cadere forse? Guardate. Durissimo. Posso metterlo così. Posso metterlo così. Guardate. E non va giù. Posso allargarlo. E non va giù. Questo è quello che io ho cercato di fargli vedere in tutti i video. Non è una marionetta. È bellissimo. Adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ci vediamo dopo. Lo so ragazzi. Io ve lo farei anche vedere tutto il video. Però poi l'ho mandato avanti e non mi seguite. Vi annoiate. Quindi se avete poi necessità me lo farete sapere nei commenti. Ci vediamo dopo. Ragazzi. Non ho altro modo che farvelo vedere così. Guardate le braccia come stanno su. Vi garantisco che le muovo solo se voglio io. Se no non cadono in qualsiasi posizione. Bisogna solo avere un po' di attenzione nel montaggio. Ecco perché è nato il mio canale. Per aiutare quelli che hanno meno esperienza. Adesso andiamo a mettere la parte anteriore. Prendiamo il reattore arc. Lo mettete con la parte. Guardate. Non posso appoggiare l'armatura che si rovina se l'appoggio dietro perché è di plastica. Abbiamo una parte più sottile qua sopra. Alluminio. Guardate. E la parte più larga sotto. Vedete. Ecco. La parte più larga va verso le gambe. non vi potete sbagliare. Quindi così. Guardate. Che bello ragazzi. Mamma mia che bello. Iscrivetevi mentre mi guardate ragazzi. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi. Condividete nei gruppi dedicati. E aiutate a crescere Michele. Allora. A questo punto. È pesantissimo. Io ve lo peso dopo. Se non mi dimentico perché l'età avanza. E la demenza pure. Allora. Andiamo a mettere questo. Ad agganciarlo. Guardate che meraviglia. Devo andare poi a controllare il pezzo qua dietro. Ma lo farò dopo. Altrimenti il video diventa veramente troppo lungo. È una stupidaggine comunque. Quindi abbiamo messo questo. Adesso giriamo pagina. Ah. E come faccio a posarlo adesso? Facciamo così. Un attimo. Metto in pausa. Ci vediamo dopo. Non ho trovato altro modo per per metterlo in sicurezza. Eccolo qui. Ho dovuto mettere giù le braccia altrimenti mi va in avanti. Allora. Poi. Prendiamo questo. Ok. Prendiamo questo. le due coperture delle viti e ovviamente particolari. Una è contrassegnata con la lettera R e andrà messa inserita a destra e una contrassegnata con la lettera L che andrà inserita a sinistra. Per destra si intende guardando l'armatura dietro la schiena. Quindi la destra è questa e questa sarà la sinistra. Quindi prendiamo questo e andiamo a mettere la destra. Andiamo a inserirlo per vedere come si presenta. È molto semplice da inserire. La parte più lunga R questa. La parte più lunga va verso il basso. Non potete sbagliarvi. La schiacciate fino in fondo. Fate la stessa cosa dall'altra parte e poi guardate se si inserisce bene. Se entra bene perfettamente prendete poi il cacciavite a punta piccola. Lo inserite dentro tenendo queste due parti rosse al fianco altrimenti rompete e lo fate uscire. Ecco qui. Perfetto. Così vi sarete accertati del corretto inserimento perché poi non lo togliete più. A questo punto andiamo a prendere questo qui. Lo mettiamo. Siamo qui. Ragazzi abbiate pazienza. Qui è un campo di battaglia. Andiamo a mettere questo pezzo. Sì. Perfetto. Va messo così. Ovviamente non superate la mezzaluna. Quindi lo togliamo. lo andiamo a inserire qui. Ecco qua. Perfetto. Lo andiamo a posizionare qua ma prima di fare questo vado a prendermi due viti IM. Come vi ho detto prima mi sono già creato i filetti nelle loro sedi. Uno qui e uno qui. Ma vi rendete conto quanto è bella. Ho visto commenti. È cara. Mamma mia quanto costa. 1100 euro. Ma se riuscite a trovare qualcosa di meglio voi a meno così pesante con tutte queste articolazioni beh fatemelo sapere. Fatemelo sapere. Allora. Andiamo. Vedete le braccia. Qui non cadono eh. Qui non cadono le braccia. Ricordatevi. Alzate le parti dietro. Andiamo ad inserire questo. Come lo inseriamo questo? Nonne. Ma riesco a inquadrare qualcosa. Un attimo che c'è il braccio che dà fastidio. Tiriamolo giù. Ecco qua. Non lo inserite da sopra già a filo con quello dietro perché va messo in avanti e poi spinto indietro. Ok? Guardate sotto i fori. Non vi potete sbagliare. Ecco qua. Uno è entrato. A me viene tutto difficoltoso perché devo guardare qui. Devo guardare il telefonino che non esco dalle immagini. Ecco qua. Perfetto. Guardate che riusciate a vedere i fori sotto della vite dove appunto andrà avvitata la vite. Prendiamo questo pezzo meraviglioso. Mamma mia. Ma quanto sei bello. Ecco qua. E andiamo a metterci le due viti i M. Ne puntiamo una e mettiamo l'altra. Stringete un po' a destra e un po' a sinistra senza avere fretta. Qui c'è il piacere del montaggio. Non la fretta. Altrimenti lasciate perdere. Ma dov'è? Fatemi vedere una cosa. È un attimo solo. E mi girava a vuoto la vite perché non aveva preso dietro. Ecco perché vi dicevo fate attenzione. Questo gradino che avete qui. Vedete questo foro? Tra la spalla e l'addome che abbiamo messo. È normale eh. State tranquilli. Guardate che meraviglia. Guardate come tutto è rigido nell'armatura di Michele e anche nella vostra di sicuro. Se mi avete seguito. Adesso andiamo ad attaccare anche l'ultimo pezzo sotto. In realtà è già finito il montaggio del fascicolo numero 93. Guardate l'accensione. del reattore ARC. Bellissima. Ecco cosa vi volevo dire. Vedete? Guardate. Io questa la tiro su. E non ho quel suo spazio eccessivo. È normale. Fate così. Vedete? È normale. Però se non l'avete stretto vedete che qui c'è poco spazio. Se non l'avete stretto questo vi cade giù ed è bruttissimo. Ecco perché vi dico stringetele queste viti e ve l'avevo detto già dall'inizio di non mettere alcuna copertura. Adesso qui io la posso mettere. parlo di questi pezzi qui che copriranno le ultime viti che abbiamo messo. Il destro e il sinistro. Ecco qui. Vedete? Questo è con la lettera L e lo mettiamo qui. qui. Questo è la lettera R e lo mettiamo qui. Mamma mia. Quando è che è corretto l'inserimento? Questa linea deve essere perfettamente in linea con questa dell'armatura. Vedete? Linea, linea nera, linea. Ragazzi andiamo ad attaccare anche questo. E io non vi dico niente. Vi dico soltanto che ne ho fatti tre. E sono felice di averli fatti perché ne presenterò uno danneggiato anche se acquisterò tutti i 20 numeri per ogni armatura. Uno in posizione d'atterraggio e uno in piedi. Così. Andiamo a fare inserire tutto. Sentiamo il clac. Deve sentirsi. Eccolo qua. Guardate. Mamma mia quanto sei bello. Quanto vi piace. Adesso andiamo a pesarlo e vediamo cosa ci dice. Siete pronti? E mancano ancora le gambe che sono quasi tutte in metallo. Due mila e venticinque grammi. Due chilogrammi e venticinque. Che per i nostri amici americani inglesi. Questo è il peso. Bene ragazzi. Levo un po' di cose e ci vediamo a breve. Ho inserito anche i coprimuscoli dorati ma senza premerli. Lo farò come vi ho già detto alla fine quando sarò sicuro di tutto. Guardate questa armatura. Questa mezza armatura che cosa è. Io dire che sono entusiasta è dire poco. Dire che sono entusiasta è dirvi poco. Guardate che spettacolo. come si fa a dire che costa cara questa armatura. Vedete lo spazio che vedete qui è perché soltanto appoggiato senza che io l'abbia schiacciato. Questo si alza tutto su. tutto rigido come deve essere. Quando poi Michele avrà un canale che cresce grazie a voi che mi guardate vi scrivete non vi cancellate e potrò investire qualche soldino nelle attrezzature. Adesso sinceramente no. Non lo posso fare. Ve lo dico con tutta onestà. Non lo posso fare. Aspettate che apro tutto quello che si può aprire. Guardiamo le ultime immagini e poi chiudiamo. Ecco qua. Guardate che ho una vite che è attaccata con la calamita del casco. Ok. Accendiamo il casco ma si vede poco perché ci sono tutte le luci dei led del cubo box. Non credo che si possa vedere. Vediamo. Bene ragazzi. Adesso procediamo con l'ultima parte del video che farò vedere a chi ha piacere il contenuto del fascicolo. Ci vediamo dopo. dopo. Se avete piacere restate con me e Michele vi ringrazia ancora di più. Ecco qui. Mi sta venendo l'ernia a tenere con una mano a questo peso. Eccoci giunti a questa ultima parte del video numero 43 di questa splendida spettacolare armatura. Bellissima bellissima. Andiamo a vedere. Prima pagina anzi seconda di copertina. servizi e numeri utili. Buona lettura ragazzi. e magari se avete piacere ricordatevi di iscrivervi al canale. lo so ragazzi. Lo so quante volte ve lo dico in un video. Ma io non sono capace ancora a mettere le icone. subscribe. Tutte queste cose qui. E siccome non per cattiveria ma 76 persone su 100 ve lo posso dire con certezza perché noi che abbiamo i canali abbiamo YouTube Studio Analytics l'analisi di tutto quello che i nostri iscritti e non iscritti fanno. Io so che 76 persone su 100 che guardano i miei interventi i miei montaggi e tutto non si iscrivono al canale. E io dico perché non vi iscrivete al canale di Michele Armonica e attivate anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E perché non date anche un'occhiata alla mia playlist dove potete trovare altre cose? Perché ragazzi? Va bene dai vi dovete scrivere se avete piacere però molti si dimenticano ed ecco perché io cerco di ricordarvelo più volte. Quindi mentre andiamo avanti con le immagini io vi ringrazio di tutto sono arrivato fino a qui solo grazie a voi continuerò se continuerò solo grazie a voi e crescerò solo grazie a voi. Io vi abbraccio tutti quanti tutti quelli che mi supportano che si iscrivono e che mi guardano. Grazie ragazzi con tutto il mio cuore. Successivamente preparerò anche i video della Citroen 2 cavalli Charleston sempre edizione di Agostini scala 1 a 8. Se avete piacere date un'occhiata alla playlist come vi ho già detto e guardate se c'è qualcosa che vi può interessare. Io avrei fatto anche altre costruzioni che mi avete chiesto ma non posso oggi permettermi di farle altrimenti le avrei fatte. Eccoci qua siamo arrivati alla fine. Perfetto. Bene ragazzi che altro dirvi Michele vi saluta vi ringrazia veramente di tutto di tutto di tutto vi abbraccio a tutti un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari arrivederci al prossimo video ciao